Continuano gli avvistamenti della foca monaca sull'isola di Cabraia, in provincia di Livorno, in Toscana. A riprendere il raro mammifero nella sua storica grotta è stata una telecamera di ultima generazione. Le immagini del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano mostrano l'animale che spunta dall'acqua con il suo inconfondibile musetto. La foca monaca, che aveva trasformato la cavità in un sito di riproduzione fino ad almeno 70 anni fa, è rimasta nella grotta per alcune ore. A monitorare il pinnipede considerato a rischio di estinzione sono stati, oltre agli esperti dell'area protetta, i ricercatori dell'ISPRE e della Blue Marine Foundation. La frequentazione della foca monaca è segno di un'ottima qualità delle acque e degli ambienti costieri dell'isola di Cabraia, ricca di biodiversità, ha commentato il presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Giampiero Sammuri. Grazie a tutti.